Ok ragazzi, al Games Wars ieri è stato annunciato The Other Wars, un nuovo gioco di Obsidian che va a colmare un buco che si era creato nella fanbase di Fallout. Lo annunciano dicendo proprio siamo i veri creatori di Fallout. Parole dure ragazzi, parole dure. Ma è anche vero perché ricordiamo che oltre ad aver fatto New Vegas, l'Obsidian nasce dallo smembramento di Black Island Studios che ha collaborato con Interplay nella creazione di Fallout 1 e Fallout 2. Di Vare Vogo, io sto fomentatissimo. E quindi che dire ragazzi, un altro Fallout inaspettato. Le ambientazioni a Tompunks sembrano create per farci sentire a casa, anche se ambientato nello spazio mantiene questo stile retro post-apocalittico classico che troviamo in Fallout. Sembra proprio che l'Obsidian si sia detto adesso ci facciamo un Fallout tutto nostro con Blackjack e squillo di lusso. E diciamo che sembra avere anche le classiche qualità degli RPG di Obsidian. Quindi importanti dialoghi con NPC e la possibilità di cambiare l'esito della missione e del gioco stesso in base alle risposte e alle decisioni che prendiamo nel gioco. Ammetto che anche io sento un po' il bisogno di fare incazzare qualche NPC. Comunque in questo video andremo ad analizzare il trailer, il gameplay e un nuovo tipo di avanzamento di livello molto particolare, diciamo molto ruolistico perché aggiunge un sistema di difetti del personaggio. Poi lo andremo a vedere. Il trailer inizia con un simpatico vecchietto che ricorda Rick di Rick and Morty, che ci chiede se vediamo qualcosa che potrebbe essere riconoscibile come una cellula esplosiva dentro il velivolo. Ci risveglieremo dall'ibernazione su una nave coloniale che si è persa durante il trasferimento verso una colonia ai confini della galassia, così da trovarci invischiati in una complicata cospirazione che rischia di distruggerla. E ci parla di questa nuova ambientazione, Age of the Galaxy, ambientata proprio ai confini della galassia. Ma che ora è cambiato tutto perché dopo l'arrivo della federazione galattica che si è imposta con brand e marchi registrati e svendendo tutto quello che c'era in questo posto, a questo punto i nativi della colonia hanno deciso di abbandonarla. In più aggiunge che lui non può salvare la galassia perché ha una taglia sulla testa ma pensa che noi potremmo esserne capaci. Infatti fin da subito dal trailer ci rendiamo conto che in questo gioco dovremo prendere delle decisioni importanti, le dovremo prendere subito. Questo personaggio ci dice che dovremmo fare una scelta fra una decisione cattiva e una ancora peggiore. Poi ci dice non mi aspettavo che avresti preso questa decisione, ma sei tu a decidere, devi essere te stesso. Una cosa bellissima da sentirsi dire in un RPG. Diciamo che il comparto tecnico non è dei migliori, ma non è mai stato il punto forte dell'Obsidian. E poi comunque questo è un progetto nato prima di essere stati assorbiti dalla Microsoft, quindi diciamo che ancora non avevano i big money. Da loro più di tutto ci aspettiamo un titolo profondo e ben scritto, con sottotrame che partono in base alle risposte che diamo. Non lo so, sono molto propositivo su questo titolo in arrivo. Sembra un mix fra Massive Effect Andromeda e Borderland. Vediamo fin da subito che potremo essere eseguiti da dei compagni che ci assisteranno nei combattimenti. E qui abbiamo il primo contatto col sistema di avanzamento di livello. Come vedete qui la raptifobia. Il giocatore, essendo venuto in contatto con queste lucertole, adesso ne ha paura. Gli incontri ripetuti con questi raptidons hanno diminuito la tua efficacia quando loro attaccano te o i tuoi compagni. Quindi un incontro ravvicinato dove uno di queste lucertolone attaccasse un membro del nostro gruppo ci farebbe avere dei malus. Quindi mi sembra di aver capito che ogni punto abilità comunque ti becchi dei malus. Di conseguenza dovremo riuscire a bilanciare i malus con i bonus. I ragazzi di Game Informer che hanno avuto la possibilità di giocare questo titolo hanno anche detto che il loro personaggio ha la fobia del fuoco grazie al suo background. Non è ancora ben chiaro di cosa si tratta ma sembra dare un'ulteriore sfaccettatura al gioco di ruolo. Perché dove noi andremo a migliorare otterremo anche dei malus, quindi non avremo mai una macchina da guerra perfetta. Ci risveglieremo dall'ibernazione su una nave coloniale che si è persa durante il trasferimento verso una colonia ai confini della galassia. Così da trovarci invischiati in una complicata cospirazione che rischia di distruggerla. Mentre esploriamo le regioni, lo spazio più remoto, incontreremo diverse fazioni, tutte in lotta per il potere. E la storia dipenderà totalmente dalle nostre decisioni. Nelle equazioni che le aziende hanno previsto, noi siamo la variabile imprevista. Comunque mi ero scordato di dire che questo sarà un action RPG in prima persona, sarà disponibile per Xbox, PS4 e PC e sarà single player. Niente ragazzi, sono molto propositivo. Diciamo che la Obsidian è sempre stata una garanzia. C'è ancora qualche incertezza nel comparto grafico ma c'è anche un'amplia possibilità di miglioramento visto che questo è soltanto un alfa. Comunque niente ragazzi, siamo in attesa di questo giocone che uscirà nel 2019, ancora non si sa la data precisa. Che sembra avere un sistema di dialoghi in grado di aumentare lo spessore narrativo e l'esperienza di gioco. Quindi fa molto ben sperare. E niente ragazzi, con questo è tutto. Vi aggiornerò su ogni notizia che arriverà su questo titolo. Quindi se non siete iscritti vi consiglio di iscrivervi e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!